Incontenibile, inarrestabile, imperiale. L'Arezzo a Livorno certifica la sua netta superiorità in un campionato che l'ha vista partire con il ruolo di favorita. E' vero, mancano sette partite, ma il grosso è stato fatto. Serviva la prestazione e questa è arrivata nello stadio più atteso. L'Arezzo ha messo all'angolo il Livorno, ha iniziato a picchiare duro, sfiancando fisicamente e mentalmente il suo avversario. Prestazione che entra nel Pantheon e chi era all'Ardenza il 12 aprile del 2023 lo segnerà nel suo cuore. La cronaca inizia con la buona partenza dei padroni di casa, schiarati con tre mezze punte davanti. Bello il colpo d'occhio dello stadio con 5.000 spettatori sugli spalti dell'Ardenza. Indiani lancia Cantisani, rilancia Lazzarini e conferma Pattarello che dopo neanche un minuto arriva tardi su un pericoloso tiro cross di Gucci. Il Livorno getta il guanto di sfida e al terzo si crea una bella occasione con l'estro di Lofaso. Stop è girata, Trommini intuisce e devia sul palo. L'Arezzo prende campo e al nono va il tiro con Cantisani dopo una bella intuizione di Gucci. Palla fuori di poco. Minuto numero 13 arriva il primo giallo per Benassi che commette una esagerazione su Pattarello. Episodio chiave per l'economia della partita. Minuto 23 ancora un pericolo dell'Arezzo. Lazzarini va in percussione assist per Cantisani che conclude con Bagheria che mette in angolo. Un minuto dopo matura la rete del vantaggio dell'Arezzo da calcio d'angolo. Settembrini si inventa una palla perfida sul secondo palo. Gucci è pronto, l'attaccante è ben piazzato e indirizza il pallone sull'angolo giusto. Secondo gol consecutivo per lui, sesto in totale. Non c'è tempo per annotare la rete che il Livorno si suicida. Benassi non tiene Pattarello che lo punta. Fallo da Tergo è rosso inevitabile. L'Arezzo ha in mano il match e zona poco dopo la mezz'ora colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Il Livorno ha un sussulto al 33esimo. Lazzarini commette un fallo e perde palla. Bruzzo va il tiro ma Trombini attentissimo. Trombini al 36esimo risponde alla grande anche ad una incursione di Lucarelli. Poi al minuto 44 ecco il raddoppio dell'Arezzo. Pattarello e un motorino. Il tiro è respinto in qualche modo da Bagheria. Castiglia nei paraggi e non perdona. 2-0. Il Livorno è un toro matato e reagisce della maniera sbagliata. Prima del riposo fallaccio da Tergo di Lucarelli su Lazzarini. Labronici in nove. Partita di fatto conclusa. Nella ripresa si giocherà ad Accademia. Esposito cercherà di coprirsi per evitare il naufragio. Al secondo Pattarello fa la Rabona facendo irritire gli avversari e forse anche indiani. All'ottavo applausi per Castiglia che coglie in piano la traversa dopo una bella iniziativa di Cantisani. Pattarello è entrato nel merino e indiani decide di toglierlo. Chapeau per lui. Entra convitto che ha voglia di farsi vedere e al diciassettesimo una sua percussione permette a Cantisani di piazzare il pallone con una precisione chirurgica in rete. Per il baby è un momento da sogno. Indiani concede spazio anche appretato prima. Minuto 27 e Arduini successivamente. Al trentaseiesimo Cantisani firma la sua personale doppietta dopo un cross e tagliente di zona. Specialità ormai della casa. Non c'è più partita. Inizia la festa in curva. L'ultima volta era stato tombolato a firmare la vittoria allo Stadio Ardenza. Sette punti di vantaggio a sette giornate dalla fine. Avanti tutta.